La rete infettivologica del sistema sanitario regionale sta funzionando a pieno regime ed è attiva H24. Come vi ricorderete l'uomo cinese che è stato assieme alla moglie il primo caso in Italia oggi possiamo annunciare che si è negativizzato ed è in buone condizioni di salute e poi verrà letto dalla dottoressa Marchioni il bollettino medico in cui vi verrà esplicitato anche le metodologie utilizzate. Così come è negativo ed è in buone condizioni anche il giovane ricercatore che ricorderete abbiamo è venuto ospite dello Spallanzani da Cecchignola e che sarà dimesso in giornata odierna per cui due buone notizie in un quadro serio in un quadro in cui il sistema sanitario regionale è sotto pressione ma la rete infettivologica sta reagendo positivamente.